madonna merda è meglio far un dammer qua un dammer vero still non ci credo che mi ha dato mi ha dato la fisica mi ha dato questo lo trasto fra merda deve passare il primo tre lo trasto è un cazzo di glass cannon però tiro delle stecche speciali non da poco questo puttana trust ma cosmic power è una merda però non ti puoi mettersi a tappare con questo vabbè che cazzo però scusa che sfiga cioè ma non so come non ce l'ha fatta basta bro che cazzo è non la voglio c'ho già 6 beam non ho messo mi servono delle speciali fra non sta roba eh lo so che era basso ma ora livello un sacco perché ho beccato curem come primo non penso di mettere questa non faccio 6 beam speciale tengo coverage di altre mosse metti che cioè tanto le fisiche fan cagare in realtà qua shadow sneak per sheding è meglio togliamo woodhammer tanto non la faccio mai dai woodhammer smog è speciale si sta a mettere smog su forse earth stamp non è che sia così forte no non penso di mettere non la faccio mai smog dai che palle bro mi servono delle speciali buone qua livellando stia livellando cioè mi servirebbe trower beam o quel che ice beam o quelle cose lì mi servono qua ma basta beccare solo pokemon non resistenti a psico cazzo però madonna ragazzi c'è light screen non la faccio mai non mi metto questo è un pokemon che deve attaccare buona allora comunque sono partito bro che pokemon ho beccato manca ancora l'ultimo trainer partendo dal 6 sono già il 15 è incredibile sta roba l'avevo già prima sì infatti che scam vabbè dai vabbè un altro pokemon psico ok serve al 17 la mossona buona bro at 17 at level 17 ahora sfera al 17 verda ahora sfera al 17 è scomoda su questa energy root carino x special fiery dance ancora meglio probabilmente boh vabbè va bene quelle citate vanno tutte bene non è che c'è una preferenza mi arriva una di quelle sono contento comunque poteva essere thunderbolt bro cazzo tolgo air stamp tanto non la faccio mai la fisica psico che culo doveva cagare da sto zitto questa è buona merda bug buzz è buona capo cosa tolgo zap cannon bug buzz è buona bug buzz è buona calma calma bug buzz è buona il discorso è che shadow snake ci serve per scedinja al momento no quindi secondo me la fisica forse tolgo zap però zap cannon quando mai la faccio bro c'è double kick può anche tornare utile perché comunque è una stab shadow snake mi serve per scedinja zap cannon idealmente quando lo faccio bro c'è 50 cura si fa merda secondo me infatti se fallisco mi sciottano non posso tenere mosse che non c'hanno 100 curasi su questo c'è da dire che sto mano ha buoni hp quindi quantomeno gallad mattone bro carbo salo carbo salo carbo salo carbo salo brother vai 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 toro vai toro vai toro crederci sai bim madonna c'è il primo è un mattone fra che non ci credo ma stai scherzando ma cosa cazzo ho appena visto bro gli do il Barry Juice ma veramente cioè gli ho tolto tre qua mamma mia però che palestra cazzo madonna santa ragazzi si vabbè però che due palle ragazzi sincero devo vincere lo speed tie secondo me devo attaccare io qua anche a curarmi 123 mossa clamp no lui ricarica no ora giusto sbaglio ricarica lei quindi ero più veloce io no quindi qua ha senso usare una fresh water matta no secondo me perché c'è un altro mon quella da 20 non fa nulla la fresh water secondo me la devo usare perché dopo lui c'è un altro mon e tu non sai questo cos'è eh vabbè cioè meglio star safely che buttare anche perché c'è un sacco di hp quindi la fresh water torna poco utile più avanti quindi quindi meglio giocarla safely no secondo me fall play non è male fall play puttana fall play è forte cazzo su questo non è male fall play su questo perché fa danno in base all'attacco che c'ha opponent non male sta roba appunto per cui si infatti per quello ho fatto la fresh water hai capito ma shidinja lo coverava anche shadow sneak però questa è più forte è proprio più forte come mossa questa qua torna utile sempre comunque eravano morti si perdeva all'ospedetai con regiais che ci faceva up save him lui a noi purtroppo impostor su sto mondo qua si perdeva all'ospedetai e si è morti non è che no 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 what about the long run no much attention girly or my prossimo al 26 fall play è forte perché io ho zero attacco quindi molto buona buono fisica coleottero siamo anche livellati bene qua comunque non è male 26 pre rivale dobbiamo ancora fare il trainer qua dentro servirebbero cure pipi max si vabbè pipi max manco troppo servirebbero cure pipi max non è male però dico dio caro shottato minchia volcarona shottato aia merda extreme speed di pare che extreme speed è forte non è male is better than you pa 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 valenci buon di capo buon di capo no 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 mossa al 31 e non l'ho visto anche un altro ragazzo in chat da me c'è andato che lo scriveva prima infatti non l'ho visto io il concerto dei molto bene tra poco si balla tre capi they're spending most their life living in gangsters bella diego grazie al follow grazie a tutti comunque con le ottero più psico fanno una buona coverage assieme come tipologia di mosse averle entrambe voglio dire non è male madonna questo come lo tiro giù questo bro se abbiamo bisogno della della speciale lotta allora abbiamo qualche berry da dare la mago berry confonde ragazzi forse l'hanno già guardato prima non mi ricordo se era la mago o un'altra era la mago vero che confondeva si giusto buono socio scrivimi in privato su twitch poi dopo la live vediamo ti mando il codice due che non lo saprei neanche riprodurre non ce la faccio non ho quella non riesco mindset capo qua eh perda full play sei matta zio pera bug buzz giù uno psi beam giù due bug buzz giù tre sai beam che palle bro porco dio posto nice no raga va bene sorvoliamo dai entertainment which is fucking shit bro questo crepa da imposter che perdiamo lo speed tie ci steccano moriamo buono questo qua ci aveva oh mamma è forte Electroball holy shit è buona Electroball bro sono giga veloce cosa tolgo double kick no si non la faccio mai Electroball è carina pay attention non è T-bolt ma qualcuno mi può rimettere al volo grazie anche a te Andrea del follow la tabella di un nostalgico la tabella di Electroball se riuscite un attimo a rimettermela per curiosità si adesso toglie il rosemary 40 utilizzatori per l'interversario ugualmente veloce 60 da 1 a 2 volte più veloce 80 da 2 a 3 secondo me sono molti di quelli in cui siamo tra 2 a 3 volte più veloci cioè guarda che abbiamo un sacco di speed abbiamo il 92 al 35 un casino scusa c'è scritto da 2 a 3 volte più veloce quindi se sono più di 2 volte più veloce cioè se uno ha 30 di speed in sto caso è una 120 no 80 ok da 2 a 3 80 però è una 120 se è tipo 1 a 30 di speed ora giusto tutto bene sport abbiamo performato bene su bg stiamo abbiamo star run boh ti dico star run ma non è così a likely che becchiando i 30 speed ma è l'ora di chi sta mossa di solito oppure questi qua è tutta roba che avrà pochissima speed tanto che di solito fa psi beam quindi c'è sti cazzi nel senso stiamo parlando del nulla perché salvo che sia poco efficace psi beam o quel che è preferisci sempre fare psi beam qua stiamo parlando del nulla però era un commento riflessivo qua forse ha senso l'electroball però perché ci caso che una 60 almeno lo sia cioè quindi io cane che tumore ma è rimasto uno perché aveva stardi aveva no way che non sia morto però aveva stardi vero non ho letto perché è troppo veloce bella di cappone come stai bro po' che non ti vedevo sì spero tutto bene ogni tanto lo lurco il marion vedo che sta crescendo molto dai sono contento cazzo per lui sì sì me l'han detto me l'han detto cosa ha fatto quel coglione di way sminchia me l'ha confessato lui ieri mi fa so che mi prenderei già per il culo sta roba te lo confesso io prima un attimo qua mi devo svegliare fra non c'ho la cura alla non c'è un awakening o una bacca specifica devo veramente usare il full heal che palle che palle bro veramente devo usare il full heal eh sì non posso rischiare cioè se mi fa la super f questo mi stecca eh vai adesso eh bro non sai le mosse se quello lì ti fa una volante quel cazzo che è ti incula eh sì sì si è curato anziché prendere lo slave cioè poi ways mi dà del rincoglionito a me hai capito incredibile cioè che me l'aveva detto ieri sera solo che oggi mi ero scordato di flammarlo per sta roba cazzo me l'ero anche segnato sul telefono di flammarlo per sta roba oggi in live poi mi sono scordato che mi dà questo utente che da telepatta è uscito dalla palestra al posto di prendere lo slave si è curato dà del coglione a me hai capito qual è il discorso cioè merda surreale cazzo mi ero scordato di sta roba vabbè lascia stare dai sì sì è andato è andato al centro pokemon è al posto di prendere lo slave prima si è curato perché è rincoglionito veramente assurdo il wazer cazzo però tutti costardi stiamo scherzando me la metto dopo nel telegram la clip anzi c'è il calciatore che la vuole mettere sì sì ci può stare ovviamente ci può stare certo non ho letto stardi bro qua sbaglio cosa non mi sembra che avessi star di questo come cazzo fate però perché è il 17 è il 17 full play mi sa che dobbiamo fare su di lui come cazzo fare è surreale sta roba sono entrato sono entrato in live e ho detto merito i soldi così l'ho flammato ma hai fatto bene Renga non ti devi assolutamente sentire in colpa lui fa sempre il professore in live da altri dovevi far questo devi far questo devi far l'altro poi dopo lui fa la cazzata più atomica di tutte allora si merita la perculata ma proprio bisogna anche inferiere in maniera abbastanza quasi scomoda perché se lo merita beh scusami si a fare la carogna in live da altri poi ti sbagli tu e allora ti becchi infatti ma me l'ha detto subito mi fa so che già mi perculerai per sta roba guarda te la dico subito che è successa così almeno lo vieni a sapere da me ha cercato capito no? e ritorno a casa dalla palestra vado lì su discord che c'eravamo come al solito tutti c'eravamo io alle premati Vic Waze Hunter World c'era anche Castoro Fede e così via Waze mi fa eh Caster ti devo dire una roba prima che te la dica gli altri ho fatto sta cazzata gli ho detto guarda ora sono a Voghera socio mi alleno in una palestra qua di merda che c'è Zircane che infatti mi fa vomitare sta palestra solo che è l'unica che c'è praticamente mi ricordo neanche il nome della palestra solo che ho un minuto e mezzo a piedi quindi vado lì ma rock smash la prendendo questo pokemon ogni hit che prendiamo è terribile ma se uno resiste così tanto vuol dire che c'è poco attacco si si c'è la Bologna che c'è la Bologna che c'è la Bologna buono aveva Stardy anche quello ho visto male cioè è possibile che ogni due pokemon ce n'è uno che ha Stardy ma mi state prendendo per il culo cazzo cioè si vergognassero scusami auguri ok pulito ma come fai a dire poco tecnico che su Battlegrounds ti ho fatto delle play oggi che letteralmente stiamo top 70 in Europa qua sono sontuoso più che mai su Balatro c'è una run che è disumana come fai a dire poco tecnico ma cazzo ma rivediti chi di scusa grazie bambi apprezzo posso che se crei paura bambi di Okane ti mando stavo per dire una roba che non posso dire maturo capo cose che non posso ci sono cose che non si possono dire purtroppo ragazzi siamo borderline ma non sorpassiamo la linea ecco maturi ve lo riassumo immaturi certe volte basta riassumere immaturi scusa c'era 20 livelli in meno scusa ma scusa cosa ho appena visto ma che ma sei matto ma che cazzo è la domanda la togli fall play per questa però perdi anche la cover di Josh e Dingio poi fall play secondo me è buona questa qua non ha neanche 100 accuracy quindi secondo me non è da mettere seed flare qua secondo me non è da mettere seed flare qua cioè bro ma che cazzo ma tolta cioè ragazzi cosa sono sti trainer de merda lo stecco no poi mi curo dopo giusto stecco e poi curo dopo però per forza penso ma è surreale sta roba ma cosa cazzo ho beccato contro ma che è sta roba vabbè faccio electroball no ma veramente ma cosa cazzo ho beccato contro curarmi di nuovo lì non ha senso anche perché ragazzi cioè devo ittare qua provare a ittare curarmi ha poco senso perché ho poche cure e soprattutto mi fanno più danno di quello se mi ita a loro probabilmente quindi vabbè era l'ultimo ok vabbè dai abbiamo usato una cura più che altro cioè Rayquaza c'è caso che la disimpari quella mossa quindi non è un grosso problem se poi la disimpara C'è Che due palle Non ce l'ho la roba per lo sleep Ma come fa a resistere Poi porco dio Madonna c'ho 8000 di specialatta Che resiste Che coglioni di ok Volta absorb pack Volta absorb Puttana tutte le robe rio comunque Incredibile Mi sapete un attimo le berry Perché la mago confondeva Ma la wiki confonde per cortesia Vabbè vediamo Relaxed nature Relaxed nature La wiki No la wiki si può dare Give Ancora tu porco dio Però ora è a livello più basso Quindi ma lo shot Li ho fatti tutti no questi Si 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 Let's see Let's see Schizzare una palla Perché uno dei pochi pokemon Su cui non ho Porco dio bro Porco dio bro Ha solo difese quel robo Comunque Vabbè ragazzi C'è Ecco solo Ti mostri contro Peccato Belmon Questo Belmon Belmon si Difese troppo basse Ovviamente Ogni hit ci toglieva metà vita Peccato Perché era un belmon A livello di attacco speciale Di speed Bledo La 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 Salute chocolate C'è пер Grazie 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 Grazie